benvenuti nel mio canale oggi apriremo insieme il corpo umano e alla prima uscita c'è il testo con la mandibola e tutti i denti con i numeri e costa solo un euro lo prenderemo ma che dici gabriele un po fa un po paura fa un po senso a me no no mamma ha avuto un piano quando quando avremo pure gli occhi il cranio e il cervello se lo metteremo nel letto papà no no allora sì invece sì invece sì allora cosa è uscito allora il cranio i denti e la mandibola giriamo un po la scatola ragazzi un metro in dieci proprio come una altezza di un bambino o una bambina lo stomaco fa proprio schifo raga guardate ragazzi è così mi fa così schifo lo stomaco che non voglio più vedere ok va bene e alla seconda uscita c'è il cranio cioè il sopra del cranio gli occhi visto che volevamo subito montare gli occhi abbiamo preso quelli di halloween ma questi sono ancora più brutti quindi creeremo un mostro e il cervello vabbè ragazzi apriamolo insieme scatoliamo 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 ragazzi sto tirando fuori tutto ecco qua ragazzi fa davvero paura mamma mia qua c'è pure c'è pure c'è pure delle cicatrici le cicatrici come? ecco eccole una eccole un'altra eccole un'altra eccole un'altra ma non sono cicatrici queste ho trovato le istruzioni questo è tutto quanto l'intero scheletro non pensavo forse lì alto 10 metri un metro e 10 un metro e 10 volevo dire ragazzi scatate wow e a noi ci interessa la prima uscita tutti i denti sono numerati e non possiamo sbagliare e qua è dove si monta la mandibola e allora ah guarda qua c'è anche la come si monta la seconda uscita vedi il tè il cervello lascia metà del cranio cranio e gli occhi sono quelli nostri no i nostri fanno più paura sono di halloween ok ragazzi si va all'opera ciao 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 no papà non ci entrano gli occhi ma poi ce ne attacchiamo poi ce ne attacchiamo però non ci entrano si è meglio perché c'è gli occhi tutti fuori adesso portiamo i sedici denti sul cranio e dovremmo fare la stessa cosa sulla mandibola proviamo il nostro naso è fatto così non ti piace no ma come no guarda che belle vessure che abbiamo ragazzi è bruttissimo il nostro naso e ragazzi me ne mancano purissimo mancano soltanto gli ultimi due ed ecco l'altro si si ragazzi abbiamo finito eccolo fa impressione fa molta impressione con la mandibola ragazzi farà molte impressioni e questi sono quelli della mandibola guardateli che strano l'ultimo dende si ce l'abbiamo fatta ecco tutta la mandibola con tutti i suoi sedici denti ragazzi adesso vi facciamo vedere come si monta la mandibola ragazzi questo perno dovrebbe andare a finire dentro questo buco così 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 bravo vedete apri un po' la mandibola si apri adesso è il testo completato ma papà ma veramente noi siamo fatti così eh si guarda ti muove la mandibola ragazzi adesso abbiamo preparato uno scherzetto per voi è un perfetto scheletro per la festa di Halloween ragazzi benvenuti sul mio canale ricordatevi di mettere un bel like ragazzi il video finisce qui mi raccomando mettete un bel like se vi è piaciuto il video iscrivetevi nei commenti se vi è piaciuto o no iscrivetevi e cliccate qui per iscrivervi al canale e come noi fino a partire i video di vostri giocatori preferiti e se non ci mettete un like vi mangio tutti e vabbè è una certa famiglia ciao ragazzi ciao 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 ciao